ciao ragazzi e benvenuti alla nostra rubrica i segreti da maestro io sono duiglio la tegola il fondatore direttore della scuola di massaggio di abasi ma anche l'ideatore dell'antico massaggio termale romano ed è proprio di questa tecnica che andrò parlati adesso chi di noi dopo tutto non ama rilassarsi alle terme ecco oggi come i tempi dell'antica roma i centri termali erano la risposta dei nobili al bisogno di rilassarsi prendersi cura di se stessi e prevenire disturbi quotidiani oltre che un luogo di socializzazione le strutture termali moderne sono sempre più diffuse con offerte che sono adatte ad ogni budget e rappresentano uno dei tanti contesti in cui massaggiatore può lavorare certamente la competizione è tante allora perché non imparare la tecchia dell'antico massaggio termale romano insegnata esclusivamente nella nostra scuola e proprietaria del marchio se non hai ancora capito di cosa si tratta te lo racconto nei segreti da maestro di oggi ed eccoci immediatamente al primo segreto da maestro peperoncino sale miele non sono solo ottimi ingredienti per preparare per il battezza in cucina ma anche elementi naturali dalle proprietà intrinseche molto utilizzati dal massaggiatore per fare l'originale antico massaggio termale romano secondo segreto da maestro tra i principali effetti benefici di questa tecnica di massaggio ti ricordo la capacità di detergere a fondo la pelle ed eliminare le cellule morte come nei migliori peeling ridurre gli inestetismi cutani a decontrare la muscolatura del corpo terzo segreto da maestro sono stati gli antichi romani che per primi hanno ideato il concetto di wellness ed il massaggio ne fa certamente parte per ottenere salute e bellezza ed eccoci alla fine del nostro segreto da maestro l'antico massaggio termale romano oggi riportato in vita dalla scuola di avasi diviene il principale trattamento naturale di pulizia e bellezza usato non solo dagli antichi ma anche dagli uomini e dalle donne dei nostri tempi imparare tecniche innovative raggiungere al proprio curriculum da massaggiatore professionista importantissimo per restare al passo con i tempi e come in ogni altra professione l'aggiornamento costante è l'unico segreto del successo non aspettare oltre contattaci subito per conoscere le prossime date del corso se il video ti è piaciuto condividilo metti un like iscriviti al canale e visita il nostro sito di avasi.it